Benvenuto alla Taverna Friuli Wines Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia Sono Wayne Young, l'Ost Benvenuti amici di vini friulani Sono Wayne Young e siamo qui alla Taverna Come siete? Facciamo questa settimana la seconda parte della conversazione con Flavio Cabas Dal Vini Petrucco Parliamo di vini uvaggi, parliamo di bianchi contro rossi Parliamo anche di aspirazione nel futuro e come essere una persona curiosa e non chiusa Questo mi piace Però come un paio di voi ha votato per sentirmi parlare del mio vino della settimana Ti presento la prima e forse l'ultima Vino della settimana di Wayne Young Il vino della settimana viene dalla Francia Sì, 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 dalla Francia Non del Friuli Ogni anno con il mio grande amico Francesco Scalitaris Facciamo un tipo di gitta scolastica nella Francia Sono molto fortunato di avere un amico come Francesco Perché Francesco, metà francese E Francesco può parlare francese E io no E per Fuduno ho questo amico, questo compagno su questi viaggi in Francia E la prima che l'abbiamo fatto nel 2021 è stato nella zona di Alsazia E per la prima volta sono tornato in Alsazia perché il primo posto Prima zona di produzione di vino che ho visto nella mia vita in Europa Non è stato in Friuli, Venezia Giulia Non è stato in California o New York No, il primo posto è stato Alsazia Da tanti anni sono stato innamorato con i bianchi dell'Alsazia E sono tornato dopo venti qualcos'anni E ho incontrato anche la stessa donna che mi ha accoltato la prima volta che sono stato È stata una bellissima esperienza Però questo vino è stato un vino che è stato comprato da Francesco Durante nostra visita in Francia era semplicemente chiamato Riboville di Marcel Dice E questa azienda fa una cosa abbastanza particolare perché il vino che loro fanno è basato sul vignetto e non su varietà La gran parte dei vini fatti in Alsazia come Friuli sono monovarietali Riesling, Pino Bianco, Silvaner, Givert, Treminer Invece Marcel Dice è molto molto interessato di vendemmiare un vignetto completo Copiantato Allora con tutti i diversi vitigni piantato insieme e raccolta insieme Molto particolare Questo vino è un'annata 2017 E questo è un mix tra Riesling, Pino Bianco e Silvaner Veramente un bellissimo vino Naso ovviamente del Riesling con idrocarburi Che si viene con un Riesling con un po' di tempo in bottiglia Freschezza e potenza insieme Veramente un bellissimo vino Riboville di Marcel Dice Il vino della settimana di La Taverna Ok, basta Chiudiamo adesso questa bellissima conversazione Torniamo in Friuli E parliamo con Flavio Cabas di Petrucco Tu hai detto che è un Merlot di 80 anni? Sì Wow Abbiamo questo vignetto in azienda Che ha portato, cioè ci ha permesso poi Fino all'anno scorso Le nostre, diciamo, selezioni Perché sarebbero riserve Ma in realtà non dichiariamo come riserve Di chiamarla Ronco del Balbo Proprio perché l'ex proprietario di questo vigneto Ma di una parte di vigneti che abbiamo in azienda Di terreni che abbiamo in azienda Era di proprietà della Contessa Florio Che aveva sposato praticamente Italo Balbo Il trasvolatore di Ferrara E questo ci aveva permesso poi Come idea di fare Di chiamare le nostre selezioni Ronco del Balbo Ok Dal 2023, dall'anno scorso Invece è venuto a mancare l'ingegner Paolo Il fondatore che ha creato l'azienda E i nipoti hanno voluto spostare Da Ronco del Balbo A Ronco di Paolo In onore del nonno Che aveva creato l'azienda Quindi i nostri vini Ronco del Balbo Oggi si chiamano Ronco di Paolo In onore all'ingegner Paolo Che aveva creato l'azienda Da qui è partita la volontà Di fare vino Mi sembra che non solo Merlot Ma anche Ronco di Paolo Per il refosco, giusto? Nella selezione Ronco di Paolo Abbiamo Merlot Il refosco Il pignolo E l'uvaggio bianco In cui c'è Chardonnay e Malvasia Che fermentano in botte di legno Friulano e Sauvignon Che fanno acciaio Quindi Chardonnay e Malvasia Fermentano in botte A fine febbraio Rimangono sulle fecce di fermentazione Fino a fine febbraio A fine febbraio Tolti dal legno Assemblati con Friulano e Sauvignon Rimangono poi in acciaio All'assemblaggio Fino a prima della vendemmia Poi imbottigliato Poi fa un anno di bottiglia E poi esce sul mercato Ok E questo si chiama il bianco? Porta il mio cognome Perché la proprietà Ha voluto che portasse Il mio cognome È Bianco Cabas Complimenti Che bel complimento Che hanno fatto per te Sì Allora Anche lì Io Nella prima Esperienza Che abbiamo fatto Era nel 2013 Anche se poi Non siamo mai Entrati sul mercato Con quest'annata È stata una prova Una sperimentazione Bevuto tra gli amici Ok E nel 2014 L'annata non era favorevole Quindi non l'abbiamo fatto La prima vendemmia Con cui siamo usciti È stata la 2015 Quando l'ho presentato Cioè io volevo La mia idea Era che si chiamasse Con un altro nome Volevo Dedicato all'azienda Perché dicevo Cioè io Sì Lavoro in azienda Da tanti anni Tutto quello che vogliamo Ma non sono La proprietà La mia idea Era di far qualcosa Che restasse per l'azienda Ma la proprietà Ha voluto A tutti i costi Che portasse Il mio cognome Io sono andato A Vinitaly A presentarlo Con un'etichetta bianca Perché non Non me la sentivo Di accettare questa cosa qua Mentre entravo Da Vinitaly Ho avuto Un'ispirazione In cui Nella mia idea Da ragazzo Cioè da Post studio Era prima o poi Di creare un vino Dedicato a mio nonno Ah ok Che era quello Che mi ha dato la passione Per questo mondo Dell'agricoltura E quindi ho detto Sì lo accetto Ma in onore A mio nonno Ok Chi mi ha dato La possibilità E la La voglia Di creare Quel qualcosa Nel mondo Agricolo E quindi Ho accettato la cosa Ma È un qualcosa Che ci tengo a dire Che non è Per me stesso Ma anche lui Era un cabas Il nonno Ok Hai qualche memoria Specifica con il tuo nonno Che l'hai fatto Che non lo so Che ha dato questa ispirazione Verso l'agricoltura O Ma lui era Una persona Che Ci ha sempre messo Tanta passione In quello che faceva Ok E Non aveva Una preparazione tecnica Ma Come tanti contadini Esatto Ma aveva Cioè Aveva maturato L'esperienza Negli anni E per necessità Perché lui era In paese Era considerato Parecchio Noi avevamo Stalla Era il braccio destro Del veterinario Senza avere Nessuna Studio E soltanto Esperienza fatta in campo Quindi Era la persona Di riferimento In paese Quando c'erano problemi Nelle stalle Quando c'erano problemi Con i maiali E quindi La sua Grande Passione La sua grande Voglia di Dover Imparare Dover Fare Ma anche per Necessità economica Perché Lui Mi diceva sempre Cioè Quando avevi Quattro mucche Nella stalla Nasceva un vittalino Cioè Era importante Che quello Rimanesse vivo E potesse diventare Perché era una fonte Di reddito Esatto E quindi Nel tempo Ho imparato tutto Ho cercato di Rubare Rubare Nel senso Positivo Al veterinario Le cose Che si potevano fare Per salvaguardare La salute Cioè Per poter Arrivare Quindi Questa grande Passione Questa grande Energia Che ci metteva Nel far le cose Mi ha portato A questo E Credo che Questo è un mondo In cui O ti piace O non ci entri Perché Il vignetto Un po' meno Della stalla Però è un qualcosa Che ti Prende 360 giorni All'anno Per cento O per un motivo Prima la vigna Poi la vinificazione Poi l'affinamento E quindi C'è Ah Periodi tranquilli Sì Ci sono periodi Un pochino più calmi Sì esatto C'è un callo Ma non è calmo Esatto Questo Quindi Questo è un mondo Che lo fai Se ti piace veramente E ci entri dentro Dalla testa ai piedi Se sei veramente Con il volto E adesso C'è un senso Quando hai detto Che l'idea Di essere veterinario Vedo questo collegamento Con il nonno Sì 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 E dopo hai cambiato Però La filosofia è uguale No? Di essere aperto Di vuole Andare avanti Di capire Di costruire Di creare Quando si cuoce Quando si fa il vino Certo 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 C'è Sì questa Sensazione di Essere aperto Alle esperienze Andare avanti E imparare Credo che Non esiste Un momento In cui puoi dire Sono arrivato Ok Ogni giorno C'è quel qualcosa In cui C'è da imparare Ancora qualcosa C'è da modificare Qualcosa Quello che ieri Considerato Che era Non dico la perfezione Ma eri già A un buon livello Magari Va rivisto Quindi Devi avere Una mente Aperta E Poi È ovvio che Non puoi ascoltare tutti Non puoi Perché altrimenti Saremo Allo sbando continuo Sì sì Se chiedi Trenta persone Hai trenta Opinioni Diversi Però Mi piace Comunque Ascoltare tutti Perché io dico Che ogni giorno C'è qualcosa Da imparare E anche i miei collaboratori Dico che Anche l'ultimo Arrivato in azienda Può essere una persona Che può portarmi Delle novità Certo E perché Perché è uno Che arriva da un ambiente esterno E può vedere le cose In maniera diversa Da quello che posso vedere io O i miei collaboratori Quindi Sono una persona Molto riflessiva Non sono istintiva Come l'ho detto prima Però Alla fine Sono una persona Che ha una mente aperta Magari Di primo impatto Stoppo Però poi Assimilo Quello che mi è stato detto E elaboro E poi Ritorno Sui miei passi Quindi Credo che Proprio per questa evoluzione Che abbiamo Anche climatica Questa evoluzione Generale Devi essere Mente aperta Come ho detto prima Sono partito Sono partito Sono partito con il Sauvignon Come vino Che ambivo ha E quando poi Ho capito Ho dato priorità A altre cose Ma credo che È normale Nell'evoluzione Nella crescita Quindi Se prima Era una sfida C'è il vino bianco C'è l'aromaticità Questa cosa Puoi passare sui vini rossi Cioè in cui I fattori sono tanti Cioè l'importanza Della maturità dell'uva L'importanza Del vigneto E diventano Ancora quei fattori In più Quel tassellino Sempre in più Che è ancora più complicato Se vogliamo Però allo stesso tempo È più affascinante Nel senso che Ti permette Se riesci A unire tutte le cose A fare qualcosa Veramente Di Più complesso Che ti può dare Maggiori soddisfazioni Poi Per amore del cielo Cioè Magari fra dieci anni Cambierò ancora Potrebbe sì Ma questo è Sì L'uvaggio Che è stato creato È stato creato Già con una ricetta in mente O c'era Una ricerca O c'era un obiettivo Che Tu volevi raggiungere Con questo tipo di uvaggio E In questo modo Hai trovato Questo Tra virgolette Ricetta Per L'uvaggio Ma diciamo Quando Ho pensato All'uvaggio Ho pensato A un vino Che doveva staccarsi Cioè Noi in azienda Abbiamo tutti i vini Varietali Quindi l'obiettivo nostro È portare Nella bottiglia La tipicità varietale Ok Quindi Il mio obiettivo Era cercare Di fare un vino Che sia in equilibrio Con Il Cioè Le uve O i vini Il taglio Sia un qualcosa Che va in equilibrio E non ci sia Un qualcosa Che sovrasta Sull'altro Ok Facile da dirsi Non così facile Poi da trattura Nella ricetta Esatto Che da parte mia C'è l'espressione Di questa salinità Sapidità Questa parte un po' Aromatica Ma non violenta E la decisione di passaggio in legno Proprio per smussare Qualche spigolo troppo aromatico Che poi uscisse violentamente Nel vino Nell'assemblaggio Ok E quindi Il friulano Per il discorso Autotono Certo Quindi Lo chatonè è stato Quello che Almeno ritengo Sia quel vino Che mi permette Di legare gli altri Quello che gli permette Nel blend Di Prendere a braccietto Lui Si prende a braccietto Uno con l'altro E crea questo cerchio Questa è La mia idea Di Bello Di Come ho creato il vino Il Sauvignon Per dargli Quel tocco Di freschezza Di aromaticità Perché L'affinamento La fermentazione in legno A volte ci apporta Poi a dei vini molto larghi Ma un po' meno eleganti E quindi La scelta Di utilizzare Una percentuale Bassa Di Sauvignon Proprio per cercare Di dare eleganza E Freschezza A questo blend Bello Ok Vedo Mi piace questo concetto Del Chardonnay Che praticamente Prende per mano Tutti gli altri E Dai Andiamo avanti Esatto Insieme Come una famiglia Bello Bello Come un grande papà Che prende i figli Per andare Non so Nel parco Qualche cosa Bellissimo E allora Stuzzico un po' Allora È più difficile Fare vino rosso Di fare vino bianco Dal mio punto di vista Sì Sì Perché Spiegami perché Perché Sul vino bianco In particolare Se parliamo di vini bianchi Fatti in maniera tradizionale Quindi vinificazione in bianco O con una leggera Crea macerazione L'uva Finito Insomma Poi posso affidare in maniera diversa Magari c'è un affidamento in legno più corto Più lungo L'utilizzo di un legno magari meno nuovo O più vecchio Per poter soperire magari Perché Non esiste la ricetta Almeno dal mio punto di vista Non esiste una ricetta Per tutte le annate uguali Certo E a volte Anche quando vengono in cantina E ci chiedono Ma Come utilizzate il legno Dipende un po' Della nate Cioè Il nate di massima Questo facciamo Ma però Dipende molto Dall'andamento Dalla materia prima che ho Quindi Devo adattarmi Ecco perché dico che Magari È più difficile Fare un vino rosso Perché poi L'evoluzione L'affinamento È un qualcosa Che prende molto più tempo Devo Va ponderato tutto prima In prospettiva Quindi È un qualcosa che devo prevedere oggi Ma di quello che potrà accadere più in là Esatto Quindi non immediatamente 5-10 anni Esatto Sì 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 Perché ovviamente C'è più Una visione di Lungimiranza Con Lo sviluppo Del Vino rosso Fatto in un modo importante Certo Che stai cercando di Pensare di questo vino Fra dieci anni Cosa devi fare adesso Per quel momento Fra dieci anni Invece i vini bianchi Tendono di essere Un po' consumati Più giovani Allora c'è meno Questa pressione Di un Futuro Lontano No no Sicuramente c'è Sul vino bianco Cioè se è fatto in macerazione Con macerazioni Fermentative Ricadiamo Tra virgolette Nel vino rosso Insomma quindi Ok Dire un vino bianco È più facile farlo Dipende poi Dagli obiettivi enologici Certo E dagli obiettivi aziendali Che hai Quindi Questo è Il concetto Non vorrei che passi Il termine bianco È il più facile Ok Ecco la cosa Che volevo In più sì Questa idea Che deve passare Più tempo insieme Con Buccia Semi Polpa Tutte queste cose Esatto Se tu non hai Tutto perfetto Non viene fuori Perfetto Esatto L'importanza del vinacciolo Sì Importante Il seme è importantissimo Sul vino rosso Quindi Diventa Un altro Dei tasselli Da dover Valutare Nel momento in cui Vai a fare Un vino Di un certo tipo Il tuo obiettivo Qual è Cioè quindi Cercare di togliere I semi In qualche annata Quindi sono tutte Quelle cose Che non è così facile Ecco Certo Come abbiamo detto prima È più facile fare un piatto Che fare un vino Esatto Esatto È più controllabile Sì Meno variabili Questo va contro La mia esperienza Tanti anni fa Quando ho lavorato In cantina Per me Quando È finito La vendemia dei bianchi Per me La vendemia Era più o meno Finita Che c'era questa sensazione Perché ovviamente C'era questa Pressione delle temperature Di essere sicuro Tra vasi Questo Quello Quell'altro Tutto doveva essere Perfetto Pulito Filtrazioni Di mosti Di vini finiti Tutto questo Quando C'era Allora Le ultime uve bianche Sono entrate In questo momento E i rossi Erano lì Che potevi un po' Non lo so Era un po' Meno impegnativo Nel mio ricordo Sì Ma probabilmente C'è anche Perché Più o meno Che noi Abbiamo il 70% Di uve bianche E il 30% Uve rosse Quindi Quando dici Ho finito i bianchi Ho il 70% Di uve portate a casa Esatto Forse anche quello È un fattore Psicologico Non da poco Da considerare Sicuramente Quello che Tutto C'è Travagita Queste cose qua L'eleganza Che poi Almeno Anche noi Andiamo a cercare Sui vini bianchi A volte Devi essere Veramente attento E dico Essere lì A controllare Un po' Tutto Ma più Che controllare E a seguire Perché Alla fine In cantina Io dico Controlli Vedete Temperature Tutto quanto Ma poi Sono dei fattori Anche lì Interni Nella fermentazione Che non sempre Sono così Facilmente controllabili Cioè Batteri Quindi Lieviti Muffe Cioè Quindi Abbiamo un purpurì All'interno Del mosto Che è veramente Ampio E Sui rossi Sicuramente Cioè Hai questo Più Come ho detto prima Per questo Forse La sfida Sul vino rosso Cioè Quello che abbiamo detto Cioè Il contatto Prolungato Cioè Con le bucce Quindi avere Bucce mature Che non sappiano Di verde Perché se non hai uve Perfettamente mature Masticando le bucce Hai questa sensazione Molto vegetale I vinaccioli I semi Quindi Sono tutte quelle cose In cui Nel momento in cui Vanno in soluzione E vanno in macerazione Nel momento in cui Produco alcol Fermentando L'alcol Diventa Fada solvente Quindi mi estrae Ancora di più Certo L'importanza Di tutte Di queste cose Quindi L'importanza Come ho detto prima È vero Probabilmente Anch'io Quando arrivo Alla fine dei bianchi Scendo un po' Ma probabilmente Perché ho il 70% Di uve Più o meno Esatto Abbiamo parlato Un po' Di legno Tutti i vini rossi Fanno legno Sì Tutti i vini bianchi Fanno acciaio Tutti i bianchi Fanno acciaio Ad esclusione Dell'uvaggio In cui Il chardonnay Malvasia Fermentano In legno Ok I rossi Invece Fanno tutti Affinamento In legno La linea classica Merlot Cabernet Franc Re Fosco Utilizziamo Brotti Per 12 mesi Ma botti usate Da quarto Quinto anno Ok Sono tutte barrique Tutti barrique Tutte barrique Ad esclusione Del Cabernet Franc Che sono botti Da 17 tonetri Ok Mentre per la linea Riserva Selezione Utilizziamo Più o meno Un terzo Di legno nuovo Secondo Terzo Di secondo passaggio Un terzo Di terzo passaggio Ok Con Merlot Re Fosco Che fanno Due anni Di affinamento In legno Mentre Pignolo Fa tre anni Di affinamento In legno Ok Usciamo a cinque anni Della vendemmia Ok Futuro progetti C'è qualcosa Che sta Cucinando In cantina Per il futuro Qualche nuovo vino Qualche nuovo progetto Abbiamo un progetto L'idea È di un Vino Un blend Su vino rosso Ok Ci stiamo lavorando L'idea È comunque Le due varietà Su cui lavoreremo Mostrare Fosco E pignolo E pignolo Ah Un blend Di refosco E pignolo Sì L'idea È quella lì L'idea È Di creare Un rosso In onore All'insegnar Paolo Ok Ci stiamo lavorando È un cantiere aperto È un cantiere In cui I paletti fissi Non ci sono ancora Quindi è un cantiere Ancora In divenire Stai Stai lavorando Ma non si sa mai È Esatto Accoglienza Lì in cantina Ovviamente Hai la sala Di degustazione Però Sì 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 Abbiamo Stiamo sviluppando Sempre di più Anche questo aspetto Con Visite Con Quindi La ricerca Di un certo tipo Di clientele E Lo vediamo Che c'è sempre più Questa richiesta Verso Questa direzione Quindi Hai stanze O posti Per dormire Per il momento Non abbiamo Stanze È uno dei progetti A livello Aziendale Anche quello Perché abbiamo Un casale In mezzo ai vigneti E Quindi Stiamo lavorando Anche in quella Direzione E quindi Il futuro Quasi sicuramente Sarà anche Con una parte C'è questo casale Dedicato All'ospitalità L'idea È Di avere Delle camere Bed and breakfast Quindi Non Cucina Ristorazione Importante Ok Quindi Aumentare Anche Andare a creare Anche questo Ramo Per l'azienda Bello 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 E tu Spesso ti vedo Che hai anche Il cappello Di anche Di andare fuori A promuovere L'azienda Tu fai ancora Questo lavoro Ogni tanto Sì Anche fai viaggi Nei Stati Uniti O all'estero All'estero Lo faccio poco Per un problema Di lingua Perché io L'inglese Parlo poco Ok Quindi lo capisco Ma Per carattere mio Siccome sono uno Se non è sicuro Non si lancia Non si bunta Ok E faccio fatica A comunicare E quindi Capisco Ma non riesco Quindi Abbiamo in azienda Una persona Che si occupa Di questa cosa qua Io mi occupo Principalmente Della Promozione Divulgazione In Italia Poi vado In affiancamento Anche Con la ragazza Che abbiamo In cantina Così lo facciamo Assieme Per un aiuto Di lingua Ok Ok Allora Questa persona Non è solo Dedicato A promozione Ma lavora Anche in cantina Lavora Praticamente Fa promozione Lavora Praticamente Sui social Si occupa Della accoglienza In cantina Le persone che arrivano Perché L'azienda Non è grandissima Quindi Io non riesco Coprire tutti i ruoli E tutto quanto Quello che volevo Perché sembrava Che tu facevi tutto No 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 Da un Qualche anno Abbiamo una persona Da più di qualche anno Prima c'era una persona Che faceva Cantina E faceva accoglienza Adesso Abbiamo una persona Che fa Accoglienza Estero Quindi Promozione All'estero Anche in Italia Assieme Perché Avvicendiamo E Riusciamo A coprire un po' Tutti i ruoli Non è facile Anche se l'azienda È piccola I ruoli Sono tanti Gli impegni Sono tanti E tu Flavio Hai un sogno Nel cassetto Hai qualcosa Che Che tu Non lo so Un piccolo Non necessariamente Per Petruco Ma per te Per Flavio Ma io Mi sento È brutto dirlo Mi sento già realizzato Ma nel senso che C'è ogni giorno Come ho detto prima Quel qualcosa Da scoprire Da innovare Da fare E sicuramente Nella mia ambizione Sono arrivato A fare qualcosa Che Se penso Al progetto iniziale Non avrei mai pensato Di andare A dirigere Un'azienda Vitivinicola E quindi In questo momento C'è cose A cui arrivare C'è sì Questo L'ambizione è A questo vino rosso Questo blend rosso Come ci ho lavorato Un bel po' Sul blend bianco Arrivare anche A creare Questo blend Da uva rossa Ok Non ho In questo momento Un qualcosa In cui voglio Arrivare Ho pensato che Forse tu hai Un progetto segreto Di aprire Un ristorante E diventare Chef No 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 Sono Abbastanza Per me stesso Per gli amici Perché è qualcosa Che mi piace condividere Perché il mondo del vino Secondo me È tanta condivisione Assolutamente Quindi A livello di amici Anche Ex compagni di scuola Ho mantenuto Almeno un appuntamento All'anno Se non due All'anno A casa mia In cui ci troviamo Assaggiamo E condividiamo Un po' le cose Ho la fortuna Di avere Parecchi amici Produttori E loro hanno la fortuna Che io non sono uno Che stappa bottiglie E ha l'esigenza Per cui molto spesso Mi portano le bottiglie Qualche anno dopo Poi vengono a dirmi Ma di quella Natalia È ancora qualcosa Mia E quindi Abbiamo uno scambio Io faccio da magazzino Da cavo Per loro Per loro Loro portano delle bottiglie E tu lo tieni Esatto Quando torno per la prossima cena Ce l'hai ancora Le bottiglie Ma anche 5-6 10 anni dopo Perché abbiamo aperto Le bottiglie Anche di qualche azienda 10 anni dopo Devi invitarmi Ecco E quindi Ho questo Piacere Quindi A livello ristorazione Non ho Questa ambizione Sei un uomo intelligente Flavio Grazie tantissimo Per il tempo passato Con noi Grazie a te È stato un piacere È stato un piacere Finalmente dopo mesi Che l'abbiamo provato Di trovare il momento giusto Esatto Il problema mio Non è A volte Cioè Sembro Una persona difficile Che non si Adatta a queste cose Ma Gli impegni aziendali Sei un uomo impegnato Hai tante cose da fare Allora capisco completamente Grazie a te Grazie 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 a te Grazie a te